Domenico Continuo, oggi il tuo primo giorno davanti al popolo di Mizzica, oggi hai ricevuto parecchi apprausi in Alabadia Grande per il secondo capitolo di Futuro Presente, potresti essere tu il candidato sindaco di Mizzica? Grazie per i complimenti intanto, è stata una bellissima giornata oggi, come tutti sapete il nostro metodo è diverso da quelli degli altri, noi in questo momento al di là dei rumors, delle indiscrezioni eccetera, abbiamo preso una strada che è quella di parlare con la gente, di arrivare a un programma condiviso, oggi è stata una giornata molto bella in cui ci sono state tre sale piene di gente che parlavano, sono stati dei momenti di dibattito aperti, di interventi competenti, si è parlato di agricoltura, si è parlato di pesca, si è parlato di terzo settore che è una realtà importantissima qua a Sciacca e poi di rigenerazione urbana, di turismo, di cultura, di turismo legato alla cultura che è una cosa molto bella, insomma stiamo riempiendo di contenuti ogni giorno di più, capitolo dopo capitolo, questa nostra avventura. Tanti contenuti ma che ovviamente si devono poi tramutare anche nelle persone, quindi ci sarà un tuo impegno, cosa spinge un giovane come te che è stato fuori all'estero per la tua professione a tornare a Sciacca e impegnarti in prima linea in politica? Nulla, adesso è la passione, è l'amore per questa città, è la voglia di tornare, di giocarsi un po', di come dire, mettere in stand by la propria storia e far parte della storia di Mizzica senza nessuna pretesa veramente, noi lavoriamo al progetto di Mizzica in questo momento, vogliamo raggiungere un programma condiviso e poi step dopo step faremo i passi giusti e la città ci comprenderà. In realtà nel tuo passato già hai un trascorso da ex segretario di sinistra giovanile, sono sempre quelli i tuoi riferimenti politici? Io penso che ci siano dei valori che sono assolutamente indiscutibili nella vita di una persona e ti permettono di guardare la realtà, le complicazioni della realtà con un occhio è una sensibilità che è giusto portare avanti sempre, poi le idee si trasformano, si modificano, trovano delle sfumature diverse, le adatti all'età, ai tempi, ai modi che cambiano, però sicuramente certi valori che sono dei valori di tutta la comunità di Sciacca li portiamo sempre dietro. Che idea ti sei fatto di questi anni dall'amministrazione di Paola? Qual è il tuo giudizio? Ma guarda, veramente questi punti io non credo di poter rispondere nella maniera dire l'amministrazione di Paola piuttosto che un'altra, vedo sicuramente che c'è uno smarrimento da un punto di vista dei partiti, ho notato che è una cosa che comunque fa male, sentire ma sono tutti uguali, non rispondono più alle esigenze delle persone e poi una perdita pian pianino da parte delle persone, della fiducia e della consapevolezza di vivere in un territorio splendido e questo forse è la cosa che noi dobbiamo riconquistare. Mizzica si fa portavoce di un progetto di cambiamento, in realtà insieme a voi comunque ci sono anche degli amministratori come la stessa Mariolina Bono o altri esponenti politici che già la politica l'hanno fatta, questa è una critica che è stata fatta all'associazione, come rispondi? Ma devo dire la verità, sono delle persone che hanno sinceramente visto in noi un qualcosa di nuovo e posso dire soltanto che non hanno assolutamente avanzato nessuna pretesa, almeno per quel poco che io ho potuto vedere, ci seguono e possono mettersi a disposizione nostra, parliamoci chiaramente, la nostra generazione da sola non ce la può fare e noi abbiamo bisogno anche delle competenze degli altri, ovviamente siamo alla guida di questo processo, è evidente, è riconosciuto da tutti quanti, i numeri sono chiari e il programma lo stiamo scrivendo noi, è Mizzica che sta portando con la sua carta dei valori avanti questo progetto, se poi vorranno far parte di questo progetto altre persone noi abbiamo la forza di portarlo avanti, se abbiamo un programma condiviso di cosa ci spaventiamo? Ci presenteremo davanti agli elettori, punto. Non vuoi sbilanciarti, ma se fossi tu invece il prescelto da Mizzica per fare il sindaco con che spirito prenderesti questo impegno? Ripeto, è tutto da vedere ancora, assolutamente, noi ragioniamo su un concetto un po' diverso che è il concetto dei sei sindaci, perché ci rendiamo conto che una persona da sola non ce la può fare, non è tanto che i problemi sono tanti, i problemi sono complessi e ci vogliono delle persone competenti al posto giusto in ogni singolo settore, probabilmente ragioneremo anche su rivedere il concetto di assessorato, di cambiare i nomi, di renderli un po' più contemporanei, parlo adesso io, con il mio pallino ovviamente, parlo della parte della rigenerazione urbana eccetera, vogliamo dare dei nomi diversi, però sicuramente lo faremo con tanta passione, lo farò, lo faranno tutti quanti con tanta passione, prima di tutto e poi pian pianino, secondo me la strategia che vorremmo portare in campo è quella di far vedere che le azioni concrete esistono, che non sono solo le parole, quindi diciamo una visione globale, però azioni anche locali, cioè azioni semplici che si possono realizzare giorno dopo giorno, così la cittadinanza si può avvicinare anche a noi e può avere finalmente riacquistare fiducia che gli operatori politici, la macchina del comune, la macchina della politica possa effettivamente rispondere alle esigenze quotidiane.